Alla vista degli agenti ha cercato di fuggire ma è stato inseguito e bloccato a pochi metri di distanza. E' finito così il tentativo di fuga di un cittadino nigeriano di 31 anni, residente a Paganica, arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della squadra mobile dell'Aquila, sezione contrasto alla criminalità straniera, per possesso e spaccio di droga. L'uomo, ospite della Caritas, perché richiedente asilo, è stato trovato infatti in possesso di 130 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione personale gli sono stati trovati addosso quattro involucri sferici, nascosti negli indumenti intimi, che contenevano la droga. Da tempo la squadra mobile era sulle tracce del pusher nigeriano. Infatti da alcuni giorni, attraverso la nuova app YouPol, ideata dalla Polizia di Stato, per ricevere in tempo reale foto e segnalazioni sui reati, alla sala operativa della Questura erano giunte diverse comunicazioni da parte di cittadini che segnalavano la presenza di persone straniere viste a girarsi in una traversa di via Beato Cesidio, in via Beato Andrea da Montereale, con atteggiamenti ritenuti sospetti.